A breve Viva Savona in Arte sbarcherà sul suo canale con una nuova serie. Questa volta ci stacchiamo dai monumenti. Parliamo di qualcosa di diverso ma che fa parte della cultura savonese esattamente quanto i nostri luoghi simbolo. I personaggi. Savona ha una lunga storia e in essa molte persone hanno calcato le sue strade o sono nate qui e hanno cambiato in qualche modo la storia d'Italia o del mondo. E sarà per noi un piacere raccontarvi le loro storie. L'appuntamento con il primo episodio è il 10 giugno 2018.